Una paurosa spirale trascina nel vortice del delitto. Il caldo di un corpo nasconde un allucinante abisso di paura. Il freddo di un revolver nasconde il sadismo, la tortura. I lampi di un gioiello favoloso nascondono un demone a sette facce in agguato per uccidere. Il freddo di un'unica Grazie a tutti. Grazie a tutti. La spirale del delitto trascina giù, in un baratro dove il terrore rimbalza sulle sette facce di uno scuro demone dall'amplesso mortale.